Buongiorno, siamo Radio Cattolica Slovena, Radio Vuce, che significa Radio Pocolaio. Quest'anno festeggiamo il 25esimo anno anniversario e siccome veniamo dalla Slovenia non può mancare il nostro tipico dolce sloveno, Potizzo. Ma io pensavo che la radio si chiamasse Potizzo. La radio non si chiama Potizzo. No, no, no. La radio non si chiama Potizzo.